Confermata la notizia dell'inserimento della seconda linea del tram stazione Volta Barozzo all'interno dei finanziamenti del PNRR. Dalla conferenza Stato-Regioni di mercoledì però arriva un altro regalo di Natale per il Sir 3 Padovano. Ci sono stati riconosciuti ulteriori 8 milioni che serviranno per adeguamento dei mezzi esistenti da 3 a 4 casse. Quindi allungare il mezzo da 25 a 32 metri e portandolo da 210 passeggi di circa a oltre 270. Questo per la linea Sir 3 che negli ultimi mesi avevamo già modificato realizzando nel progetto la possibilità di avere delle banchine e delle fermate adeguate per il mezzo a 4 casse. In totale dunque la conferenza Stato-Regioni ha disposto un finanziamento di quasi 15 milioni di euro per Padova. Di questi 6 milioni e mezzo sono quelli richiesti con una delibera di giunta per far fronte ai maggiori costi di progettazione derivanti dall'inserimento dell'opera negli obblighi di PNRR. I restanti 8 milioni sono stati assegnati per l'adeguamento dei mezzi esistenti da 3 a 4 casse.